Il doppio zero abbiamo voluto dare questo nome perché in sostanza la nostra particolarità del locale è che abbiamo i primi che sono a base di farina e la nostra particolarità è la pizza e che anche quella è a base di farina. Quindi il doppio zero deriva dal nome della farina doppio zero, anche se poi le nostre pizze sono fatte da un mix di farine doppio zero, farine semi integrali, tutte farine rigorosamente biologiche del mulino marino. Per l'impasto delle nostre farine utilizziamo solamente lievito naturale e questo richiede una lunga lievitazione più di 24 ore. Alla fine della sua lievitazione l'impasto e la lievitazione si ferma e rende così la pizza molto più leggera e digeribile. Dopodiché su questa base di pizza proponiamo tutti i prodotti che si possono sia acquistare anche nel nostro locale e sono tutti esposti nel nostro banco taglio e sono gli stessi prodotti che noi utilizziamo anche per produrre i nostri taglieri. Quindi i prosciutti cotti, i prosciutti crudi, i formaggi e tutti i prodotti che vengono utilizzati come farcitura della pizza sono comunque acquistabili. Un altro prodotto che noi abbiamo sono i primi prodotti da un noto produttore di paste fresche però sono paste che vengono poi congelate con un metodo particolare innovativo e questo permette al suo utilizzo di riportare la pasta allo stato originale come se fosse praticamente stata prodotta in quel momento. Abbiamo anche dei secondi che però secondi si limitano solamente a tagliate quindi tagliate di razza garonese e battute quindi battute al coltello. Questo è il piatto che noi proponiamo nel nostro menù gastronomico e sono i gnocchi viola, i mammoli chiamati mammoli perché derivano, sono fatti da patate viola. Sono proposti su una base di crema di asparagi, una purè di asparagi con una farcitura di stracciatella. Questo piatto appunto l'abbiamo proposto nel nostro menù gastronomico autunnale di Biella. Con i mammoli ci può stare bene un grignolino o un dolcetto del nostro, diciamo, produzione piemontese. Noi siamo molto fieri dei nostri dolci perché sono tutti dolci il nostro chef che produce nella nostra cucina. Abbiamo le nostre cheese case con varie farciture, abbiamo la torta Morello a base di Nutella, abbiamo poi i tiramisu che noi tipicamente mettiamo in vasetti e vengono utilizzati in genere per le marmellate. Abbiamo le creme catelane e la panna cotta. Comunque sono tutti dolci, rigorosamente fatti con prodotti di prima qualità. Vi aspettiamo numerosi nel nostro locale.